allora vediamo che buongiorno buongiorno a tutti eccoci qua praticamente siamo a Palermo nel ristorante romano quindi diciamo una cosa diversa da il solito cibo siciliano che è buonissimo ma quello romano è molto buono suggerito di venire qua come potete vedere oltre il tiramisù con la moca che viene servito esclusivamente solo in questo ristorante si chiama Magna Roma quindi siamo tutti a venire in questo ristorante perché logicamente questo ristorante si mangia veramente veramente bene qua abbiamo oltre ripeto il Savoyano che ripeto il tiramisù e il Savoyano c'è la fragola la fragola da crema con la crema di gelato logicamente la crema di gelato non è crema di gelato è praticamente diciamo una crema che si scioglie davvero veramente guarda che commerciante è divina e la fragola non è la solita fragola poi in questo casco ci stagna esatto perché se voi cercate di andare nel centro insomma se venite a Palermo a Piazza Polriamo che è il centro di Palermo chiedete di Magna Magna Roma messaggio promozionale messaggio promozionale non è un messaggio promozionale è solo un invito che noi facciamo perché effettivamente è molto difficile si mascolta? lo so sconto non te ne fai è così è premesso lo sconto per questo sconto quindi si è guadagnato lo sconto venite la trovate ma poi sono in compagnia di Francesco mi piace è una grandissima persona è emozionato lo dovete scusare sono veramente a mio agio sono solo che a volte uno quando è troppo molto divente preso quindi logicamente dico quello che penso sono molto sincero devo essere sincero ho confermato quello che pensavo facendo questa persona devo dire che lui è una persona veramente veramente sincera e di molti valori quindi sono contento di essere qui con noi e siamo qua finiamo con il nostro dolce perché se no e logicamente ragazzi seguitemi anche sul mio canale è già finito seguito seguito ciao da Francesco e dalla moglie Valentina ciao